ciao a tutti eccoci con la nostra rubrica settimanale sulle principali notizie sul mondo dei mega trend e degli investimenti tematici il blog anche questa settimana è stato ricco di notizie molto interessanti per approfondire tutte le notizie nel dettaglio iscriviti al canale e visita il sito investirene megatrend.it ma partiamo subito giovedì scorso c'è stata un'alleanza molto importante nel settore della new space economy tra google e spacex google ha annunciato di aver vinto un accordo per fornire risorse di calcolo e di rete a spacex la cosa interessante è che spacex installerà stazioni di ricetrasmissione di terra presso i data center di google che così si potranno collegare direttamente ai satelliti starlink di spacex starlink è l'azienda di ilon musk dedicata all'installazione di satelliti che garantiranno una copertura globale della terra con una rete ad altissima velocità la domanda più importante è come è possibile investire su questo settore se gli imprenditori visionari come ilon musk richard branson e jeff besos investono soldi nella corsa allo spazio significa che ci vedono sicuramente grandi opportunità per il futuro purtroppo oggi sono ancora poche le aziende quotate in questo settore e non tutte sono così redditizie se prendiamo come esempio il titolo virgin galactic ci accorgiamo come queste aziende quotate siano soggette ad un'altissima volatilità di breve periodo nei prossimi mesi verranno quotate altre aziende in questo settore però ogni investimento in queste aziende va affrontato con un'adeguata strategia prudenziale sicuramente ci aspettiamo il lancio di fondi tematici ed etf armonizzati su questo settore nei prossimi mesi per quanto riguarda il mondo delle batterie e della mobilità elettrica è in corso un'importante collaborazione fra tre protagonisti che hanno come scopo quello di rivoluzionare il settore dei trasporti ci sono due aziende tra cui l'inglese bp che ha decretato la fine dell'era del petrolio e la sua transizione all'energia green già nel 2020 e poi c'è stordot che è tra i pionieri nello sviluppo di batterie a ricarica estremamente veloce e per ultima la stazione spaziale internazionale che sta testando un sistema di ricarica veloce nello spazio per la prima volta in un esperimento appositamente ideato nello spazio le batterie di stordot saranno sottoposte a centinaia di cicli di carica e scarica i risultati di questo esperimento dovrebbero accelerare la commercializzazione della batteria prodotta da questa azienda innovativa c'è un grande fermento attorno al mondo delle batterie e da investitore vale la pena di creare uno scenario di investimento su questo settore nel database del sito potete trovare una lista di aziende proprio su questo tema di investimento vediamo adesso uno dei mega trend su cui sta puntando un'importante società di investimento secondo candrian la rivoluzione tecnologica e i cambiamenti demografici sono i motori che spingono i mega trend della robotica e dell'automazione grazie agli enormi progressi in termini di potenza di calcolo e gestione dati i robot si sono evoluti in un modo tale che il loro campo di utilizzo è ormai vastissimo i robot possono essere dotati di intelligenza artificiale di tecnologie di mappatura e di sensori molto avanzati prima di quanto possiamo immaginare vedremo apparire il robot in ospedale a scuola per strada o anche nelle nostre case a causa poi dell'invecchiamento della popolazione la robotizzazione e l'automazione saranno necessarie per aiutare a prendersi cura degli anziani e per produrre tutto ciò di cui abbiano bisogno e voi state investendo su questo mega trend come ogni settimana vediamo adesso il lancio di due nuovi strumenti finanziari in questo caso abbiamo due nuovi etf tematici di x trackers sul mondo dei mega trend tecnologici il primo è specifico sul tema dell'intelligenza artificiale e dei big data mentre invece il secondo è specifico sulla mobilità del futuro questi due nuovi etf di x trackers composti da massimo 100 società in tutto il mondo inclusi paesi emergenti hanno l'obiettivo di investire in settori molto strategici con ancora ampi margini di crescita vi lascio qui sotto in descrizione il link per analizzare nel dettaglio questi nuovi etf tematici per finire il dottor stefanizzi ha pubblicato sul sito l'intervista con il dottor montalcini presidente di homes for all durante l'intervista viene spiegato il processo di finanziamento di una società benefit e in particolare il dottor montalcini ha spiegato come la sua società abbia scelto questa forma innovativa di finanziamento nel link del sito potete trovare tutta l'intervista completa eccoci alla fine del nostro aggiornamento settimanale questa settimana il blog è stato ricchissimo di novità molto interessanti e racchiuderle tutte nel tg megatrend non è stato semplice grazie al libro investire nel megatrend e al blog investirene megatrend.it giornalmente vengono spiegati cosa sono i megatrend e in questo modo le persone possono rimanere sempre aggiornate su questi temi di investimento se ci sono poi temi che ti possono interessare e che vorresti venissero trattati maggiormente faccelo sapere nei commenti se vuoi rimanere sempre aggiornato sullo sviluppo dei megatrend e su tutte le novità sugli investimenti tematici iscriviti al canale e metti un like al video ciao e a presto grazie a tutti grazie a tutti